Anche quest'anno al termine della Santa Messa preseduta dal Vescovo Monsignor Vincenzo Pisanello è stato conferito il premio San Gregorio Magno assegnato ad un cittadino manduriano che si è distinto nell'ambito delle scienze e dell'impegno civile e della cultura più in generale. Per il 2024 il Comitato Festa San Gregorio Magno di Manduria ha scelto di premiare la famiglia definita dal Santo Padre luogo dell'incontro, della condivisione, dell'uscire da se stessi per accogliere l'altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara ad amare. La famiglia è la cellula fondamentale sia della società sia della chiesa. Se non mettiamo la famiglia al centro davvero non abbiamo compreso il suo valore. Consideriamo cos'è la famiglia. La famiglia è in piccolo una società e c'è tutto. C'è il padre, c'è la madre, ci sono i figli, ci sono gli anziani, ci sono i giovani, ci sono i sofferenti, c'è tutto. Quindi se la famiglia è messa al centro, la società è messa al centro. La ricerca del bene comune per la famiglia è la ricerca del bene comune per la società. E allora ribadire con un premio, il premio San Gregorio, che annualmente viene attribuito a persone di spicco, quest'anno è dovuto attribuire a una famiglia, una coppia, che nelle difficoltà lavorative, piuttosto impegnative, però riescono a mantenere ancora il loro menaggio familiare, che è fondamentale perché serve anche per la crescita delle nuove generazioni. L'augurio è che tutte le famiglie, tutte le famiglie possano ispirarsi alla famiglia di Nazareth, la famiglia di Maria, Giuseppe e Gesù, per crescere nella santità e nel bene comune. Una famiglia simbolo, quella di Celso, Brunetti e Chiara Scotti. Celso, nato a Manduria, cresciuto all'ombra della chiesa matrice sotto la guida di Don Luigi Neglia, compiuti gli studi superiori e il percorso accademico con un master in Bocconi, si trasferisce a Londra per frequentare un corso di dottorato. Li conosce Chiara Scotti, nata a Lodi, attualmente membro del direttorio e vice direttore generale della Banca d'Italia. Oggi Celso, oltre alla carriera accademica, è membro del direttivo della divisione di ricerca del Federal Reserve System. La famiglia Brunetti è stata impreziosita dall'arrivo di due figlie. Ora la loro vita si svolge tra Roma e gli Stati Uniti, ma l'unità familiare è sempre forte, il legame con la città di Manduria sempre vivo, non solo per la presenza dei familiari di Celso, ma perché questa terra è diventata importante anche per Chiara e per le loro figlie. Innanzitutto, che emozione? Beh, un'emozione molto grande perché appunto ormai sono 26-27 anni che vengo a Manduria, quindi insomma essere riconosciuta, essere accolta dalla città è sicuramente molto molto bello. Sono felice del premio, sono soprattutto felice che hanno riconosciuto anche la famiglia, soprattutto mia moglie. Coniugare la vostra carriera con la famiglia è stato semplice? Assolutamente no, però penso che alla fine ci siamo riusciti ma ci siamo impegnati entrambi. La cosa che secondo me è stata molto importante e forse diverso da quello che succede normalmente è che comunque ci siamo veramente supportati sempre in ogni momento. Non è perché io ero la mamma che dovevo sempre fare tutto, i compiti in casa sono sempre stati divisi. Questa volta lo faccio io, la prossima lo fai tu, la mia carriera è importante come la tua e ci siamo sempre supportati. Quindi il segreto è quello, i piccoli dettagli. Piccoli dettagli sempre, fare attenzione. Fare attenzione è facile quando le cose vanno bene, è un po' meno facile quando ci sono difficoltà, quando Chiara doveva decidere se accettare l'incarico in Banca d'Italia, continuando a fare la mamma, la moglie e avere la carriera che sta avendo. Si tratta di un vivo esempio di come anche tra le difficoltà della vita la famiglia sia un nucleo fondamentale dal quale poter costruire un mondo più giusto, pacifico e sano. San Gregorio davvero, certamente lui la sua missione la compie quella di proteggere la città di Manduria. Bisogna che però anche i fedeli e vorrei dire più in generale i cittadini imparino a fermarsi, a considerare gli insegnamenti di questo grande santo che dopo 1400 anni ancora insegna come se fosse ancora vivente. L'augurio qual è? Quello è affrontare serenamente tutte le difficoltà della vita. E' importante. San Gregorio Magno ha pensato alla persona, al benessere della persona, al bene comune. Quindi ognuno di noi deve avere questi obiettivi. La festa patronale quest'anno è stata un ritorno al passato, alle luminarie, sin dal tratto di Via Roma, davanti all'arco di Sant'Angelo, alla Cassa Armonica in piazza, all'ascolto delle bande musicali, agli spettacoli di intrattenimento, al passeggio, lungo corso 20 settembre, ai profumi delle mandorle e dello zucchero filato. Il Comitato San Gregorio Magno è riuscito quest'anno a ricucire il legame tra i manduriani e questo momento di gioia collettiva. L'anno prossimo si potrà far meglio, coinvolgendo altre aziende private per una festa sempre più bella e ricca, per onorare il santo patrono, conservare e tramandare la tradizione, e con esse ricordi e le piccole gioie semplici che restano impresse nella memoria.